Togni Turrini con urgenza in zona cerimoniale per la premiazione duemilaquattro femmine categorie ragazze per la prima serie con cui concludiamo il programma di questo pomeriggio alla due Naomi Gerardi alla tre Chloe Bodei alla cinque Alessia Claudia Schiavinato alla sei Maria Elena Morbin grazie a tutti premiazione duecentorana ragazzi femmine duemilaquattro medaglia di bronzo Eleonora Turrini amici nuoto Riva argento Alessandra Previtali Sport e Fitness Oro Ilaria Togni Aquatic Center Montichiari la prossima premiazione riguarderà centorana ragazzi femmine duemilaquattro e da Peroni Aquatic Center Montichiari Argento Matilde Zucca medaglia d'oro Giorgia Vavalle DDS e dunque cinquanta metri alla conclusione Carboni in corsia cinque Como nuoto Peli Pinzi Posenato Mazzotta Morbini e Polini ripeto Peli Pinzi Posenato Mazzotta Morbini e Polini in zona cerimoniale cinquantuno e sessantuno Francesca Carboni Componente Grazie a tutti ... ... ... ... ... ...